Salve a tutti amici del canale, oggi voglio mostrarvi un acquario molto particolare, ovvero un acquario che da diversi anni, circa 3 anni, non è mai stato fertilizzato. Questa è una cosa incredibile, visto che la fertilizzazione è praticamente da sempre considerato qualcosa di obbligatorio in acquario. Eppure questo non è mai stato fertilizzato. Vediamo un pochino intanto di che cosa si tratta. È un acquario da 180 litri, fauna esclusivamente composta da pesci del genere pecilia, quindi abbiamo soprattutto plati, come vedete, anche black molly, soltanto qualche guppi più raro. Sono tutti nati inizialmente da pochissimi esemplari e si sono pian piano riprodotti, arrivando a circa un centinaio di esemplari. La flora? Ebbene sì, la flora non è molto esigente in termini di fertilizzazione, ma comunque è composta da piante rapide. Abbiamo una prevalenza di limnofila sessiflora, questa probabilmente è la più rapida tra tutte. Poi abbiamo anche l'igrofila e del microsorum, anche se comunque quello che assorbe di più in assoluto è sicuramente la limnofila. È una pianta rapida, come vedete arriva fino in superficie ed è stata putata già diverse volte. Vi invito ad osservare la perfezione di queste piante, neanche un segno di carenza. Questa è la cosa incredibile, perché è facile non fertilizzare, ma avere delle piante così perfette in un acquario non fertilizzato, beh, è proprio questa la particolarità di questa vasca. Vediamo un pochino i valori di questa vasca. È stata usata quasi solo esclusivamente acqua del rubinetto, per questo tipo di pesci può andare anche bene, anche se mi sembra eccessivamente dura. Comunque abbiamo un KH intorno al 15, un GH intorno al 17, pH 7,5 e soprattutto guardate i nitrati sono elevati, siamo sul 40 mg per litro, quindi sono nitrati abbastanza alti per una vasca. Però è vero anche che c'è un perfetto equilibrio tra quello che è l'elevato numero di nitrati e la qualità delle piante, perché le piante tendono ad assorbire insieme al filtro, questo acquario è dotato di filtro esterno, ovviamente, però c'è da dire che c'è un perfetto equilibrio nell'assorbimento di nitrati. Ma allora da dove viene il fertilizzante naturale? Ovviamente viene dalla fauna, dal cibo in eccesso, ma soprattutto dalla fauna presente. Osservate, tutti questi pesci creano inquinamento e questo inquinamento non è soltanto di composte azotate, ma anche di altri minerali che vengono introdotti con il cibo, stesso parte dal fondo, e quindi insomma abbiamo una perfetta sintonia, quella che è la filtrazione, non solo data dal filtro, ma in questo caso gran parte dalle piante, e quello che è la produzione di inquinamento, quindi dai pesci, dal cibo e da tutto quanto. Con questo video non voglio dire che non dovete fertilizzare, ovviamente, perché tutto dipende dal carico organico, se potete fertilizzare benvenga ovviamente, però volevo farvi vedere che ci sono situazioni in cui c'è un equilibrio perfetto tra la fauna e la flora presente. D'altronde è come avviene in natura, perché in natura nessuno va a buttare il fertilizzante, in natura le piante hanno questo equilibrio perché il nutrimento stesso viene dall'inquinamento. Negli acquari classici di chi magari ha appena iniziato, c'è ovviamente la tendenza a ridurre l'inquinamento quanto più possibile, quindi si sta sempre attentissimi alla fauna che mettiamo, all'inquinamento che viene introdotto, alla filtrazione soprattutto, ed è per questo che di solito si va a ottemperare la carenza di elementi mettendo il fertilizzante, ma quando si trova un equilibrio perfetto in realtà questo non è strettamente necessario. Diverso è il discorso per le piante estremamente esigenti e li dobbiamo dosare perfettamente tutti gli elementi, stimare le carenze, insomma lì è tutto un altro discorso. Oggi sto parlando di piante a rapida crescita che possono andare bene anche con poca esigenza, in termini sia di luce che di fertilizzazione. Grazie a tutti.